Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi vi porto un altro episodio del Pro vs Pro di fatti ho beccato il weekend league la settimana scorsa, il top 6 è europeo ovvero un ragazzino svizzero che quest'anno sta veramente facendo favile che tra l'altro ho già affrontato anche durante il mondiale per club e mi ha derubato di una partita vergognosa e supplementaria al 120esimo dopo 3 kickoff una cosa assurda per 4 a 3 quindi l'ho beccato in weekend league e quando l'ho beccato ero bello che avvelenato per cercare in tutti i modi di prendermi la via rivincita quindi secondo me è una partita che merita di essere vista e che offre come al solito tanti spunti altrimenti non me la porterei senza perderci troppo in chiacchiere direi che possiamo passare all'azione quindi passiamo sulla schermata in game come potete vedere questa era la sua squadra con Ederson tre palli, Mandy Varane, Walker If, Tavernier Vieira quadrado mediano e davanti Pelé, Neymar, Rashford e Ronaldo una partita che tra l'altro ho beccato sul 24-4 quindi con due rimaste anche lui aveva tipo due partite rimaste una cosa del genere vado molto rapido perché ha messo pausa all'inizio questo ha testimonianza di come funziona in maniera molto esotica il matchmaking arriverà a un video al riguardo kickoff per me, partita tra l'altro con i Coriandoli e sappiamo che le partite con i Coriandoli in Weekend League sono sempre magiche qua sbaglio subito questo appoggio con Cancelo però vedete come ho coperto innanzitutto benissimo il filtrante possibile che poteva arrivare sul Rashford vedete come la mia difesa si alza visto che con profondità 7 vi ho spiegato fa questo movimento qui con Walker faccio un'ottima copertura e cerco di ripartire potete notare come il gameplay fosse davvero davvero lento magari vi appare rapido a video ma vi assicuro che giocare questa partita e questa Weekend League in particolare è stato veramente un incubo qui bella palla cerco di imbastire la classica azione a scaletta ottima la giocata per Rashford peccato il tacco fatto così se fosse stato un passaggio un po' più statico secondo me la palla sarebbe potuta tranquillamente arrivare a Ronaldo e finire poi alle spalle del suo Kipa cerca di ripartire lui si fa vedere il suo Mendy vedete come gioca molto con terzino ed esterno per creare spazio e sovrapposizione vedete io come faccio filtro con i mediani davanti alla difesa prima di selezionare il difensore e qua già mi era partito un mezzo neurone visto che rivedevo i fantasmi del Mondiale per Club dove già mi aveva derubato perché vedete qua io qui giustamente con Renato Sanchez cerco di coprire quello che eventuale passaggio verso il suo Pelé tanto vedo che Ronaldo è accoppiato con Walker ok? quindi dico qua sono abbastanza safe lui effettivamente dà la palla su Ronaldo io qui vado a switchare gli leggo il movimento perché vedo che carica la finta di tiro one touch che c'è anche al tutorial sul canale di prima per andare chiaramente a conquistarsi questo spazio io con Walker cerco di coprirglielo ma praticamente Walker si paralizza e mi trapassa e va subito in vantaggio sull'1-0 però come vi ho detto tante volte la testa fa praticamente tutto ad alti livelli quindi cerco di mantenere la composure la gamma e la concentrazione cerco di ripartire subito con un kickoff qui vedete come avevo liberato bene il filtrante verso Ronaldo ma Vieira purtroppo si fa intercettare il lancio qui gran chiusura sul suo di filtrante verso Cristiano Ronaldo e cerco di ripartire sfruttando anche perché no le avanzate di questo cansello che devo dire la verità mi sta piacendo ogni giorno di più soprattutto perché essendo un po' più tecnico e preciso nei passaggi mi dà la possibilità di creare più giocate qui gran gol devo dire la verità perché guardate con quanta pazienza qui gestisco palla a centrocampo con Vieira vedo il mio Ronaldo libero tra le linee lo servo qui capisco che Mbappé farà il classico movimento ad inserirsi grazie all'istruzione inserisciti alle spalle però c'è da superare l'ostacolo numero 1 e l'ostacolo numero 2 che è il suo Varane che potrebbe uscire a chiudermi questa linea di passaggio quindi in qualche modo devo continuare a temporeggiare prima di poter servire Mbappé quindi che cosa faccio con Ronaldo dopo che lui ha comunque portato via l'uomo dalla marcatura in maniera secondo me un po' ingenua la do prima su Rashford per evitare che magari il passaggio metteva Mbappé in una condizione di ricevere palla non in maniera orientata verso la porta ma che avrebbe dovuto fare qualcosa per potermi girare poi di prima con Rashford cerco l'imbucata qui poi è tutto un gioco di nervi tra me e il portiere perché sapete che si può muovere il portiere quindi so attentissimo e vedo lui che sposta il portiere da questo lato e quindi vado a concludere dall'altro lato con questo tiro ad incrociare e trovo per fortuna subito la rete del pari devo dire azione molto molto ben costruita questa da parte mia lui riparte come al solito con la sua flemma sbaglia questo passaggio che per me è un passaggio talmente killer con Varan io qui cerco il filtrante cerco il numero con questa roulette di prima però Ronaldo poi sbaglia tutto guardate qui questa situazione voglio farvela voglio farvela vedere perché parlo sempre di filtro a centro campo quando porto queste analisi guardate qui filtro a centro campo significa esattamente questo ossia io prendo Renato lo cerco di avvicinare step 1 al suo Viera in maniera tale che gli do fastidio e non gli vado a concedere una giocata rapida step 2 dopo che Renato è in posizione vado a prendere Viera e cerco di andare a coprire questo spazio di campo e perché no cercare magari anche di andare a prendere un eventuale passaggio verso il suo quadrato quindi cercare di fare schermo con i centrocampisti significa esattamente questo di prendere con loro in maniera attiva e non passiva quindi vedete come mi avvicino a quadrato qui faccio questo doppio switch molto rapido per caso mai riportare anche Renato in posizione qualora dovesse arrivare un passaggio di prima lui si gira e allora convierà inizio la mia rincorsa all'indietro qui mi sono sentito di uscire con Walker ma vi dico che è stato un errore perché guardate come ho dovuto poi ricoprire il buco che avevo creato allargando Varane e per fortuna poi Cancelo torna con la diagonale vedete qui come la difesa continua ad alzarsi in maniera impeccabile in maniera automatica visto che utilizzo set di profondità ecco viera recupero palla però gli torna perché sapete che questo è un gioco magnifico guardate questo Ronaldo che va avanti come un bulldozer però rimango molto molto freddo ecco Walker riesco a chiudere il pallone potete notare come cerco sempre di costruire l'azione dall'esterno verso l'interno ve l'avrò detto 800 volte per cercare di allargare la squadra avversaria qui ancora una volta probabilmente Varane l'ho portato troppo prima fuori posizione però sono abilissimo poi con Walker a difendere questo 1v1 senza farmi ipnotizzare dalle sue finte però questa è una fase del match in cui ero un po' in sofferenza come potete vedere che lui pressava alto e io non riuscivo a non riuscivo per bene a uscire dal suo pressing e qui commetto un errore perché nel momento in cui lui riceve palla qui con Ronaldo questo switch su Varane ci può stare ma in questo momento deve terminare perché lui ha Ronaldo di spalle quindi la mia giocata era andare a prendere Walker e cercare di accorciare perché Ronaldo si stava girando invece continuando a tenere Varane vedete non faccio altro che dare a Ronaldo la possibilità di girarsi guardate quanto spazio gli lascio ok il suo pelle viene fuori io già qui commetto un altro errore perché dovevo stringere con Varane cosa che ho fatto però in questo momento il mio switch doveva cadere su Mendy e da Mendy dovevo andare a chiudere questa fascia qui su un eventuale passaggio sul Rashford invece rimango troppo affezionato a quel Varane cercando di prendere palla ma in realtà non faccio nulla come vedete rimango troppo passivo lui con questo passaggio sul Rashford lo tiro di prima all'angolino quando il mio Rashford solitamente la butta a terza anello ma va bene questi sono dettagli quindi 2 a 1 per il nostro avversario che si riporta avanti in questi primi 25 minuti di partita molto molto combattuti senza esclusione di colpi visto che comunque ci conoscevamo avevamo giocato praticamente due giorni prima al mondiale per club ve l'ho detto e sapevamo bene o male cosa aspettarci l'uno dall'altro qui io come al solito cerco di imbastire azione stavolta dall'altro lato come vedete dall'esterno verso l'interno sì ma mai sempre dallo stesso lato per evitare diventare prevedibili qui Rashford si fa trovare una posizione inusuale qui doppio passo cerco la giocata che però viene stroncata da il buon Ederson qui ho scosso la testa e vi dico perché perché nel momento in cui io faccio questo doppio passo e mi fermo ok ho cliccato la finta di tiro e mi aspettavo che il movimento di Mbappé fosse uno scoop turn perché lo scoop turn mi avrebbe concesso di ritrovarmi in questa posizione qua quindi andando a coprire molto più campo e da questa posizione avrei potuto nuovamente fermarmi magari fare una crocchetta uscire e poi tirare invece facendo questa finta che è molto meno ampia e molto più rapida conquisto meno spazio la palla gli rimane sotto e Mbappé calcia di sinistro una scorreggia praticamente che non impensierisce minimamente il buon Ederson quindi ero un po' disappointed dopo questa giocata calcio d'angolo cerco sempre di di buildare la la classica azioncina e infatti arriva poi la rete di Cristiano Ronaldo cosa faccio da calcio d'angolo lo batto vicino fuori fuori poi cerco sempre il giocatore al limite dell'area e aspetto il movimento un po' da pivot della punta in area di rigore che fortunatamente si viene a creare perché guardate questo Walker quanto è rimasto indietro io con Ben Di Temporeggio aspetto il momento giusto vedete qui semplicemente muovendomi con l'analogico con Cristiano Ronaldo una volta che ho preso questo spazio è un gol quasi garantito perché avvio l'animazione del doppio passo che mi permette di sprintare in questa zona qua e una volta arrivato qui non ho dubbi di tirare sul primo palo visto che il buon Pope si trova in una posizione di svantaggio e conclude il rete per la rete che vale subito il 2 a 2 quindi 30 minuti abbastanza pirotecnici sotto questo sotto questo punto di vista partita veramente bella e godibile da vedere ma così come sarà per me tutti i 90 minuti altrimenti non non ve l'avrei portata insomma lui qui su questo kickoff affretta troppo la giocata e nuovamente me la regala era successo anche sul primo kickoff forse vabbè errore dettato dal nervoso che ci può stare cerca sempre questo filtrantone su Pele o comunque sulla punta di riferimento anche lui in stile pivot diciamo bridge skill molto classica che vediamo sempre più ormai che risulta indifendibile per cercare di prendere campo ma sono bravo a capirla perché l'unico modo per difenderla è farsi colpire praticamente indietreggiare dal pallone e qui Ronaldo fa un lavorone in questo momento avrei potuto fare una cosa guardate qui come avevo tenuto alla grande palla ok in questo momento qua dopo aver portato a spasso il suo difensore raga io avevo un corridoio clamoroso avevo questo corridoio qua centrale da andare a dare palla con Neymar con triangolo e mi sarei ritrovato a tu per tu venivo da tante partite giocate di fila è chiaro che ogni tanto poi la lucidità manca soprattutto contro avversari del genere magari cerchi la giocata più safe ma io guardate con Ronaldo con questo movimento gli avevo praticamente aperto le acque come Mosè in fuga dall'Egitto e noi gliel'ho data perdendo un tempo di gioco e poi perdendomi un po' che di fatti devo ricominciare devo rigirarmi e rigirarmi e Viera mi toglie palla da quello che era praticamente un possibilissimo 3-2 a un'azione di contropiede perché vi ho detto mille volte che quando si rischia di perdere palla così magari si avviano delle azioni pericolose non tanto perché si difende male ma perché si è attaccato male qua per fortuna con Walker faccio un grandissimo intervento recupero anche io palla in una zona pericolosa che mi permette di avviare il contropiede con Renatino Sanchez che non ha paura di andarsi a prendere tutto il campo concesso dalla ritirata avversaria guardate come al solito cerco il margine alto dell'area per tirare fuori i miei attaccanti dalla marcatura però lui è bravo a chiudermi con con Varane qui con Rashford lui riparte palla per Ronaldo con il mio Walker che sviene però gran chiusura ancora una volta di Rafa da parte mia qui ancora una volta lui pressa molto molto alto vedete io come cerco di uscire dal pressing con questa fitta serie di passaggi di prima sull'esterno perché un conto è perdere palla sull'esterno e un conto è perdere palla in zona centrale ovviamente qui ancora una volta con Rashford cerco di riconquistare la zona centrale per l'imbucata con Neymar di fatti trovo il buon Mbappé ma qui sbagliolato vedete qua avevo trovato perfettamente il movimento del mio giocatore perché come vi ho detto anche nel tutorial dell'attacco io so che da qui il mio giocatore in qualsiasi posizione si trova cercherà di fare questo movimento a venire incontro per ricevere il pallone ok di fatti è proprio quello che accade con Neymar vedete Mbappé che scappa da da Varane qui ancora una volta non mi ha preso lo scoop turno perché il movimento dello scoop turno sarebbe stato molto più ampio mi avrebbe permesso di ritrovarmi più o meno in questa posizione e magari calciare di sinistro anche se mi trovavo con Mbappé però la giocata forse migliore che avrei potuto fare era ancora una volta quella di controllare il pallone semplicemente con l'analogico lievemente girarmi e cercare di andarmene qua in mezzo con un doppio passo invece io cerco questa giocata non mi registro lo scoop turno fa una finta di tiro abbastanza ambigua si scontrano Renato e Mbappé per la mia immensa felicità e finisce qui il primo tempo passiamo con le immagini alla ripresa con il nostro amico Nisi che parte con questo kick off che per un pelo non rovescio con Mbappé in pressione altissima anche lui vedete come cerca sempre la giocata dall'esterno chiamando tantissimo i terzini non sono sicuro che resta dietro in alcuni momenti ho avuto l'impressione utilizzasse attacco equilibrato se non addirittura terzini offensivi vista la produzione offensiva che arrivava da quel lato qui Rashford ha rischiato veramente di essere cacciato dal club visto che ha fatto un passaggio pessimo con Neymar che era solissimo pronto a ricevere il secondo filtrante qui con Ronaldo lui è molto molto bravo ma io guardate come copro benissimo gli spazi e poi con questa switchata su Varane lo copro poi lui in realtà sbaglia a fare questo bridge perché se avesse fatto un'altra giocata magari avrebbe avuto una sorta migliore questa sua azione ancora una volta con pazienza io cerco di liberarmi guardate come anche io chiamo all'azione il terzino perdendo però palla molto rischiosa questa giocata perché qui ero letteralmente messo come il porco perché guardate qua lui ha questo giocatore che è liberissimo di poter attaccare io in questo momento sono si schierato ma lui è messo paradossalmente meglio di me fortunatamente però da quello che ho memoria riesco a temporeggiare bene con Walker lui perde un po' il tempo della giocata e allora poi vedete quello che vi dico filtro con i mediani guardate come switcho tra Renato e Viera lui dà palla dentro su Ronaldo ma ancora una volta con uno switch perfetto vado a togliere palla al suo attaccante cerco di ripartire stavolta al lato opposto per far riscattare quel Rashford che per poco non ci aveva salutato palla sull'esterno verso Neymar ancora una volta poi filtrantone di Renato per Mbappé arrivo al limite dell'area qui palla per Ronaldo mi giro cerco di disorientare l'avversario crocchettina passo in mezzo a 2 purtroppo il tiro viene autobloccato l'azione non finisce qua perché Neymar la recupera sul vertice sempre alto palla per Mbappé elastichino qua ho fatto veramente un golletto non male devo dire mi congratulo con me stesso perché qua ok che ho recuperato palla ma ci sta ho recuperato comunque in una zona di campo dove la sua difesa era schierata vedete con Mbappé controllo palla mi giro la giocata qui che faccio è quella dell'elastico per guadagnare campo e rimettermi in una posizione pericolosa arrivato a contatto con Quadrato finta di tiro poi mi porto palla semplicemente sul sinistro con la levetta e vado a calciare per quello che è veramente un gran gol devo dire penso uno dei gol più belli che ho segnato quest'anno contro un pro perché di una semplicità comunque disarmante basta semplicemente insomma masterare un po' l'elastico però molto molto efficace è fatto bene tutto con una questione di timing qui lui con Quadrato stava trollando un'altra volta il kickoff vedete come con Varane vado a coprire il filtrantone su Ronaldo e poi vado a completare l'opera sbaglio però qua l'uscita con Neymar lui con Rashford si butta dentro ancora una volta però il lavoro di Varane e di Mendy è efficace e poi arriva Renato a risolvere la grana con Mendy cerco di sfruttare questo momento favorevole vedete come cerco di andarmene in fascia perché capisco che la sua pressione gli può creare dei problemi con Renato do palla verso Ronaldo qui ancora una volta gran giocata con il classico ball roll più scoop turn che vi ho insegnato con 5 skill con i giocatori 5 skill però purtroppo lui non ha bocca magari ci avrei dovuto fare qualche altra cosina dopo recupero una volta ancora palla alto convierà cerco questo filtrantello per Neymar per Mbappé ma la palla mi scappa via dai piedi in maniera abbastanza ambigua ancora una volta con gran palla recuperata altissimo con uno switch importante palla verso Mbappé aspetto il movimento di Ronaldo qua Kylian viene falciato ma per l'arbitro è tutto regolare ancora una volta lui filtrantone ma capito alla perfezione di fatti avevo switchato preventivamente Varane vedete come sono stato attento in questa partita a difendere tutti i filtranti perché memore di quello che era successo due giorni prima avevo preso un gol al 120esimo su un filtrante di un'ambiguità clamorosa oltre ai vari rimpalli che accaddero ma vabbè questa è un'altra storia insomma andavo sempre a switchare in maniera preventiva per coprire gli spazi guardate qui come faccio bene filtro tra Vieira e Renato Sanchez Vieira guardate qua il gioco quanto è ambiguo perché io qui questa palla con Vieira l'avevo praticamente recuperata guardate la palla gli passa a un centimetro praticamente guardate qua Vieira mette anche il piede poi esita dice no ma passa perché tanto 3 a 2 tu la devi recuperare sta partita palla larga su Rashford qui ottima la switchata su Walker buono pure il suo elastico ma ancora meglio la copertura del mio Varane sale poi palla al piede il buon Mendy scarico verso Renatino palla poi per Chiliano ancora una volta qui dall'esterno vado all'interno cercando però stavolta di andare un po' a rallentare le giocate visto che comunque mancavano 10 minuti e si sa che queste partite vanno gestite per evitare guai peggiori lui cerca invece di sfruttare la solita corsia esterna anche con l'ausilio del terzino guardate qui come in realtà si trovi praticamente Mendy in posizione di laterale basso e Mendy di laterale alto in fase di impostazione anche per questo motivo vi ho detto io preferisco Neymar da esterno perché magari ha più qualità nei passaggi per Mbappé che comunque è in grado di rifinire alla grande e qui recupero palla con con Virat e cerco quella che è la giocata classica ossia filtrante lì nel mezzo visto che mi sono accorto che lui stava messo malissimo per la pressione qui ancora una volta bella giocata con il classico scoop turn più Borrol e anche questo devo dire un gran gol perché questo filtrante è fatto con i tempi giusti per Neymar mi allargo con il Borrol per mandarlo a vuoto e poi rientrare rapidamente con lo scoop turn doppio passo a prendere campo mi fermo mi giro perché vedo che il suo Varane è passivo quindi ho il vantaggio di potermi girare e abbiare la skill senza che lui mi venga sotto non seleziona Varane io con Neymar vado a scaricare la rete del 4 a 2 che mi porta quindi sul doppio vantaggio 8 minuti dalla fine insomma è a meno di ribaltoni clamorosi queste sono partite che insomma uno si porta a casa e di fatti il match poi scorre fino alla fine senza grossissimi pericoli né da una parte né dall'altra quindi vendetta compiuta sotto questo punto di vista partita secondo me condotta in maniera impeccabile perché di fatti come possiamo vedere adesso dal rapporto statistico i tiri fatti dal nostro avversario sono esattamente due in 90 minuti i due gol che ha fatto anche in maniera un po' fortunosa se vogliamo dire 90% di precisione passaggi quindi tanta tanta calma nella gestione dei possessi e partita della quale sono rimasto veramente tanto tanto soddisfatto e nulla per questo altro proprio versus pro è tutto ragazzi mi auguro che vi sia piaciuto fatemi sapere con un commento insomma la vostra lasciate un like che fa sempre piacere vi ricordo iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché stiamo crescendo una bomba e insomma dobbiamo continuare così per tutte le live giornaliere trovate le info in descrizione e a me non resta altro che salutarvi ciao ciao